Il membro direttivo della nostra associazione è un dipendente comunale di Sola, però è membro direttivo della nostra associazione e si diretta a fare le atti. Noi abbiamo creato questo monogo insieme, io lo prego no, che ho fatto, siccome lui per fortuna non ha dispesso la nostra lingua, la corina, la parola dei cari lucchi che era, no? Sì, non le poche parole. No, va bene, lui è inattivo, quindi qualche differenza ci sta. Io? La lingua? Eh? Io? Io sono stato grande. La lingua laboriana è bellissima, la lingua laboriana non è altro che la lingua laboriana di lavoro, quindi, ninguno di più non di meno, è una lingua che nasce prima dell'italiana, i braci di Cassinesi, i sessi, i brava, stanno lì, l'italiana nasce dalla nostra lingua. E gli ho detto, guarda, noi facciamo questo monologo, creiamo questi monologi, però chi se lo sa è traduciti il libro, ed è stato capace, qui ha fatto studi classici, ed è stato capace di tradurre la lingua nostra, usando l'accento e tutto, è stato assistito a questo monologo per far parte di uno spettacolo, e noi abbiamo il teatro, voci, suoni e canti, implicanti interi di lavoro, che già abbiamo fatto la mia lotta a Roccatacce, ci riproporrevo il 30 di marzo a qualche confina, dove ci sono vari monologi che scatternano con musica popolare del gruppo dei Cultura, i monologi riguardano non soltanto il diavolo, ma poi sentirei che adesso, non arrivo, facciamo l'altro monologo sui compagni di far diavolo, ma anche questo, nel tuo cuoco, sul colpo di Giordano, sul libri di Andi Cesare, su Rosetta Antonucci, il piccante, il piccante, e quindi oggi avete assistito a questo primo intervento. A questo punto vogliamo sapereci quel secondo, così, e poi iniziamo in tutto. No, no, no. Eremo? Poi è finito. Poi alla fine facciamo fare un dato di che fine, va? Per arco da un piede, nata a Fontana, vivendo a Civitano a voi, fino a quando sono stato vinto. Sono stato combattente a massa 1700 e 999. 1800 e 6 tra il diavolo delle chiamate. Gli sono aiutati dopo questa volta. Gli sono aiutati alla difesa di solo. Gli sono aiutati con tutta la civileva a lui. La buona fine si sa come è la fine. C'è una fregata, gli sono andati a scappare. Trattiamo a scappare a questo tempo. Gli sono assoluto e dice che a voi li hanno acappati. Non l'uomo mi hanno acappato pure a me. Mi hanno acappato pure a me e sono stato condannato E' un'altra parte, a essere piccata a Civitano a Roleto, e la ciocca mera che mi va a essere portata da tutti i paesi dall'alto. Perché come hanno avuto paura agli scellerati, come dicevano loro. Alla fine però, è avuto paura pure di portarmi fino a Civitano a Roleto. Perché pensate che la ciocca mera si è sollevata. Mi hanno piccata all'alto, ma la ciocca mera mi ha fatto il giro per tutti i paesi dall'alto. Ascoltate dai soldati. E alla fine, la presa, wow, annanzo a Civitano a Roleto, ai municipi, a Civitano a Roleto. No, e qua ci sono tutti. Troppo non po' che è trovato pure, andato in un bagnettino, per i combattenti. a Civitano a Civitano a Roleto. e poi, che è lo che si dà finì, che è fina in mio padre. Della terra a terra, che lo pone, non hanno fregato tutti questi signorotti. E questi poveri vecchi, sgranati, che innazzaccavano le montagne, che ha fatto il sporco, con poche frasche, con cica di erba, con le peste. Essi, che sarebbe andato a Stavallo, che prima era tanto bello. e non lo sapesse. Può essere che mi sono studiato, può essere che non capisci niente. Ma non arrivo mica a vedere, che ci sarebbe buona, a stare in questo pezzo, e che ha di te, e fratello di te. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. Grazie. Grazie.